Sicurezza informatica e i gravi rischi della cyberguerra sono stati al centro dell'incontro Siamo a sicuro nel mondo digitale? Inserito all'interno del Dolmen Festival di Minervino, un momento di confronto e informazione alla presenza di Arturo Di Corinto, editorialista del programma TV di Raiuno Codice, giornalista della Repubblica e attivista dei diritti digitali, che ha dialogato col filosofo digitale Cosimo a Coto, mettendo in guarda dei pericoli del web, come forti di denaro, attacchi alla privacy, riscatto informatici, crimini e azioni di guerra virtuali tra gli stati. Questi incontri che chiamiamo dialoghi dolmenici sono dedicati a indagare il rapporto sul futuro tra tecnica e cultura. Siamo dentro una grande trasformazione digitale che offre grandi opportunità ma naturalmente anche dei grandi rischi, delle grandi vulnerabilità e pericoli. Una cosa fondamentale è che quando utilizziamo dei servizi online dobbiamo dare meno informazioni possibili su di noi, sui nostri interessi, ma soprattutto dobbiamo dire meno cose possibili che riguardano la nostra vita privata. Quindi evitare di dare un indirizzo fisico, evitare di dare un nome anagrafico, evitare di dare a chiunque l'indirizzo di posta elettronica se non c'è un motivo, verificare sempre di avere delle password lunghe e robuste, assicurarsi di aver fatto un backup, una copia dei dati più importanti che abbiamo sui dispositivi che usiamo, magari lanciare un antivirus per vedere se il nostro computer è pulito oppure no. È importante adottare quelle misure che chiamiamo di igiene cibernetica. Dobbiamo tenere il nostro computer pulito e al sicuro da ospiti indesiderati come i virus.